Dottor Crane Forse è meglio che ne parliamo domani, dottore. Questa gliela manda Ornega. Non c'è un posto per dormire? Ornega. Lei è The Lasto? Hanno mandato lei. Te l'ho detto. Hanno mandato una ragazza. Hanno mandato una ragazza, sì. Io non sono una ragazza. Ma che fa? Ricomincia. Sono la sua assistente ricercatrice. La mia assistente? E dov'è la sua mascherina? Non ho nessuna mascherina. Sono arrivata ora. Nessuno si può avvicinare qui senza avere una regolare mascherina. Chissà quanti microbi si è portata dietro. Trovale una mascherina. Calma. Tanto non mi avvicino più di così. Non è per me, cretinetta. È per gli indiani. Cretinetta. Lo sa che un estraneo che arriva con un comunissimo raffreddore può decimare tutta una tribù? Ha fatto le vaccinazioni. Si può trovare un posto per dormire, porca miseria. Per dormire? Per dormire? Dormire. Oh. Sì, sì, certo. Mi perdoni. Non c'è bisogno che se ne vada prima di domattina. Ah. Vorrei dirle che le sono molto grato. Le stavo aspettando che queste si perdano nella foresta. Ah. La foresta è così immensa e loro sono così piccolini. Tu continui a usarle. Un bel giorno ti accorgi che sei rimasto senza... Dottor Campbell.